Carmen Rosso ci ripensa, niente crisi con Enzo Paolo Turchi. Il siparietto social smentisce le voci. Con divertente video condiviso su Instagram, i due ballerini hanno rispedito al mittente i rumors su presunte difficoltà di coppia. Il loro matrimonio va a gonfie vele. Dopo le voci insistenti su una presunta crisi, ecco che arriva il dietrofront. Carmen Rosso ed Enzo Paolo Turchi non si stanno lasciando. Anzi, tra loro le cose funzionano alla perfezione. Con grande ironia, i due ballerini hanno infatti deciso di smentire i rumors sulla rottura, diffusi soltanto poche ore fa, pubblicando un simpatico siparietto social, che ha subito strappato un sorriso ai tantissimi fan della coppia. Almeno per adesso, il loro matrimonio sembra quindi al sicuro. Vediamo di seguito tutti i dettagli della storia. Carmen Rosso ed Enzo Paolo Turchi smentiscono la crisi. Le voci di crisi erano nate dopo alcune dichiarazioni, erroneamente interpretate, che Carmen Rosso aveva rilasciato nel corso di un'intervista. In ogni coppia ci sono momenti difficili, aveva raccontato la ballerina, non è bello sottolineare, scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità. Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario. Ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo il modo di recuperare. E anche questa volta la celebre coppia ha trovato il modo di recuperare, in extremis, e smentire le voci insistenti che da ore rimbalzavano sul web. No, il matrimonio che da 36 anni li unisce non è affatto in crisi. E per chiarirlo, una volta per tutte, Enzo Paolo Turchi e Carmen Rosso hanno messo in piedi un divertente e ingegnoso siparieto social. Nel video condiviso con i followers di Instagram, la russo si sistema il rossetto mentre il marito la raggiunge preoccupato. Carmen, le dice, una notizia importantissima. Solo noi non la sappiamo. La nostra è una famiglia strana, perché tutti lo sanno e noi non lo sappiamo, anche oggi ci siamo separati. A questo punto della scenetta, la russo reagisce con incredulità, un'altra volta ci siamo separati? No dai, non è possibile. Poi i due ballerini concludo insieme la gig con una battuta finale, scusate tanto, aspettiamo dopo Natale. Ci sono le feste. Ci separiamo dopo le feste, va bene? Insomma, invece di puntare il dito contro qualcuno e alimentare in questo modo sterili polemiche, Enzo Paolo e Carmen hanno preferito buttarla sul ridere. Una maniera assai elegante, e altrettanto spassosa, di rispedire al mittente quelle voci insistenti che li volevano in crisi, ormai sull'orlo di una rottura definitiva. In fondo stanno insieme da lontano agosto del 1983, non sarà certo un po' di gossip sul web a mettere in discussione il loro decennale amore.